rieccoci qua ben ritrovati a tutti siamo in diretta in questa edizione speciale di di radio rossa nera è lunedì 5 giugno ancora per un'ora e mezza e salute bea è passato è cambiato tutto in 24 ore all'incirca 24 ore fa circa stava per finire la partita stava per finire minan verona stavamo per salutare zlatan ibraimovic e nel giro di 24 ore salutiamo anche maldini e massara stavo meglio ieri sera anche se ero distrutta dalle lacrime brutta e quindi cambia tanto cambia tanto del milan cambierà cambierà tutto di quello che conoscevamo fino a poche ore fa l'incontro che abbiamo detto poco tempo fa era andato parecchio male è andato parecchio male e quindi si va verso la la rottura si va verso quello che con ogni probabilità sarà un allontanamento di maldini e massara quindi non saranno tanto l'ora da andarsene ma è proprio stato comunicato a questo punto a loro di che che andranno via vedremo come come sarà la la soluzione del prossimo milan l'ipotesi più accreditata in questo momento è che joffrey moncada prenda molto più potere non proprio il direttore sportivo ma come se lo fosse con giorgio furlani che tornerebbe a fare quello che ha fatto diciamo ai magazzi di sfino un paio d'anni fa cioè il controllo totale di quello che succede all'interno del milan allora noi abbiamo aperto la chat abbiamo aperto la diretta anche per dare voce a voi l'unica cosa che vi chiedo è no alle parolacce perché se no non riesco a mettere in onda i messaggi perché poi ho paura di mettere in onda messaggi brutti con parolacce che non posso fare e quindi non il rischio è che non posso mettere in onda i messaggi a quel punto quindi non fate messaggi con bestemmie e insulti dite quello che volete no parolacce no insulti no bestemmie grazie comunque ho visto che erano tutte fake news quelle di un paio d'ore fa sono contento che già siano stati smentiti i messaggi di questo tipo io simo sono preoccupato perché come dicevo in precedenza la presenza di maldini era una garanzia ma non del fatto che il milan andasse bene ok perché il milan poteva andare bene come poteva andare male poteva avere una stagione migliore di un'altra poteva avere una stagione peggiore di un'altra per me il milan con maldini cioè maldini era una garanzia per l'ambizione ok maldini è sempre stato e ha sempre messo il punto sugli step di crescita da fare da dover fare per poter alzare un pochino l'asticella no quindi la mia preoccupazione è che maldini fosse garanzia non di un milan di successo ok perché le stagioni le puoi azzeccare le puoi sbagliare puoi commettere gli errori ma è la garanzia di ambizione ok e sia nelle dichiarazioni nelle ultime dichiarazioni di maldini quelle post champions league post inter sia ancor di più con questa decisione io mi preoccupo un pochino per il futuro poi magari andrà meglio non sto dicendo questo perché comunque siamo qui al 5 di giugno con questa notizia e non sappiamo cosa accadrà nel 2024 nel 2025 eccetera 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 però di base sono preoccupato perché lui per quanto mi riguarda oltre a essere il milan perché le tensioni non sono tra il milan e maldini le tensioni sono tra il proprietario del milan e maldini che sono due cose diverse perché il milan e maldini e quindi sono preoccupato sono un po preoccupato è di base poi ripeto speriamo che le cose vadano vadano bene comunque però di base parto preoccupato devo ringraziare daniele che si è abbonato in questa serata grazie daniele grazie anche a tf che ci fanno donazioni di due euro scriveglia che aveva qua il milan quando ha venduto inizio a mettere in onda anche un po i vostri messaggi una su tutti tanti stanno chiedendo questo non ho la certezza ma io fino all'altro ieri ho letto ho riletto ho ascoltato ho sentito abbiamo avuto notizie abbiamo avuto voci quello di quello che volete ditelo come volete che pioli ha la fiducia della proprietà ve l'avamo anche fatto più o meno intendere che pioli solo aveva la fiducia della proprietà del mercato mancato della proprietà del mercato fallimentare dalla proprietà della proprietà viene visto come una vittima e quindi credo che a questo punto possa avere chance di rimanere non vista la giornata di oggi non mi azzardo più a metterla mano sul fuoco su niente però la chance di restare ce l'ho wow beh metto qualche altro messaggio in onda ragazzi sempre forza milan io sono sempre con maldini dare in mano la storia della società storica una proprietà in colore senza senza è stato l'errore più grande mi viene da svenire moncada nuovo ds quasi probabile ecco questa è un'altra bella questione di matteo il sentiment dei giocatori però moncada ad oggi non può fare il ds no no perché il patentino da ds non farebbe il ds e chi lo fa di s questo è un ottimo domanda però non farebbe il ds ma lo sarebbe diciamo non lo puoi fare che sarebbe ufficialmente per paradosso chi va a parlare come ds del milan io ho molta paura per questo credo che questo ragazzi sia non ti dico l'ultimo dei problemi ma quasi bisogna rifare il milan bisogna farlo per davvero io ho molta paura di questo messaggio messaggio di matteo mi preoccupa tanto perché due nostri più forti giocatori dopo le prime avvisaglie come avevamo detto prima hanno messo una foto con maldini non l'hanno messa con nessun altro né con pioli né da soli né con cardinale né con massara con nessuno ho messo una foto con paolo maldini e questa cosa onestamente un pochino mi preoccupa ma spero di sbagliarmi non sarà semplice credo che le prossime ore non saranno assolutamente semplici per per tutti per i giocatori per per maldini ma sarà per le nuove decisioni che verranno prese insomma non è giusto ve l'avevamo detto però che ci sarebbe stato un giugno che non sarebbe andato via liscio più o meno l'hanno fatto intuire o io onestamente non pensavo di vivere questa rivoluzione totale globale mi sarei aspettato un po di maretta come era successo ma ma poi no però così tanto a me personalmente stupisce tanto il fatto che l'incontro sia durato poco perché cardinale aveva già deciso cioè mi lascia un attimo questo è tra l'altro esatto un'altra delle delle cose che stanno uscendo in questo momento cioè che l'incontro non è stato troppo di di dialogo diciamo così è stato una sorta di resa dei conti come aveva detto un paio d'ore fa giuseppe la scala qua da noi cioè che più che una sorta di di dialogo dove non ci si è trovati odorava di resa dei conti di di ultima di ultima di ultimo incontro per far definitivamente i conti su quello che non è andato in questi in questi anni potrei aggiungere senza senza una motivazione dal punto di vista sportivo perché andando a logica se tu guardi la stagione del milan che con budget 50 lasciamo stare come sono stati utilizzati il fatto che non abbiano reso però con con budget 50 milioni 50 forse anche qualcosa in meno tu hai fatto semifinale di champions league e e sei arrivato comunque tra le prime quattro qual è la motivazione esecutiva che porta al licenziamento eventuale di Maldini non esiste perché Maldini si è anche arrivato in centro Maldini ti dà il voto 8 perché rientra nei famosi parametri che lui stesso aveva detto perché doveva rientrare in quei parametri perché la linea della società è quella e lo sappiamo ok qual è il l'errore e l'aver comprato un giocatore a 35 che costa 29 adesso 24 non credo che sia quello credo che siano molto più profondi i motivi sono palesemente altri e va bene così no cioè è quello che comunque per quanto sia stata una stagione a parte che se sta cioè se viene definita una stagione tale da licenziare il direttore tecnico mandi bianca l'allenatore per quanto mi riguarda perché se se tu giudici giudichi questa stagione tanto negativa da mandare via il direttore tecnico allora mandi bianca l'allenatore perché altrimenti non ha senso che tu mandi via solo il direttore tecnico se giudichi così negativa questa stagione non ha senso però comunque al di là di tutto quello che che diciamo grazie allora adesso si è arrivati non eri arrivato in semifinale di champions league non eri triste solo perché ti aveva buttato fuori l'inter e allora dobbiamo deciderci perché se la stagione è negativa è negativa per tutti a meno che non ci siano altri motivi che io mi auguro e verranno spiegate non c'entrano nulla secondo me con questa è una mia specifico prima di che ci come dire che venga detto che noi abbiamo detto queste cose come notizia questa è una mia purissima opinione personale un mio pensiero non è nulla di come dire appurato verificato è solo una mia considerazione una mia supposizione per quanto mi riguarda questo epilogo era scritto ok era scritto da tanti mesi a questa parte se non addirittura dallo scorso gennaio in cui siamo stati un mese ad aspettare il rinnovo era scritto che accadesse i motivi non si conoscono se non ipotizzo per il peso che ha Maldini per il fatto che sia forse in questo momento storico più grande lui del Milan stesso e di chi fa il Milan in questo momento siano essi allenatori dirigenti giocatori e proprietari lui avrà comunque un ruolo più importante perché è stato ed è il Milan e quindi io penso che sia quello il motivo ripeto non è una notizia è una mia supposizione ringrazio Gabriele Trivi per i due euro era una fiamma che divampava ci vogliono spenti ringrazio anche Marco Merlo che si è abbonato ringrazio Carlo che si è abbonato ringrazio aspetta che lo vado a percare eccolo qua Ugo Tramacere che scrive e ci dona cinque euro grazie Ugo ne ha già donati altri due sono visto male eccoli là Cardinale pensa forse aver comprato il Sassuolo facesse un giro in sala trofeo prima di ogni mercato sono preoccupato deluso Maldini non va via per il passato ma per il futuro stasera invece mi viene un infarto sono nero sono i due euro di Massimo Barresi quindi grazie a tutti quelli che stanno facendo le donazioni che sono in questo momento in in live con noi lo ripetiamo Maldini e Massara sono praticamente al passo da Dio domani con ogni probabilità arriveranno i comunicati quindi Maldini e Massara lasciano il Milan dovrebbe prendere più potere Gioffri Moncada che diventerebbe in pratica in pectore il direttore sportivo che dovrebbe quindi prendere lui le decisioni per quanto riguarda il mercato e Giorgio Furlani prenderebbe in pratica in mano il Milan al pari di quello che faceva diciamo così a Ivan Gazzidis fino a un anno fa quindi con il pieno potere e le piene deleghe di quello che è il sia il mercato che tutto quello che riguarda il il Milan a 360 gradi questo è quello che dovrebbe succedere domani su Pioli invece lascerei un attimo in sospeso anche se insomma per Pioli vale tutto quello che è stato detto fino a qua ovvero che la proprietà ha sempre confermato il mister e lo conferma anche per la prossima stagione quindi godendo della piena fiducia della proprietà questo è quello che sapevamo fino a ieri poi se domani cambia un'altra volta pure su mister Stefano Pioli altra questione fino adesso questo è eh rileggo qualche altro messaggio eh ma avere le voci su Tare ci chiede Luca per ora no per ora no per ora non sembrano esserci novità su Tare ehm è finita tutto insomma lo stato d'animo dei tifosi è molto 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 nero è inutile che ci nascondiamo sì ma è normale ma perché qui sembra che stiamo che stia lasciando il Milan persona X ok sembra che se ne sta andando via il direttore sportivo che è il suo ruolo per carità ma non se ne sta andando via il direttore sportivo non viene licenziato il direttore sportivo cioè io vorrei chiarificarla questa cosa non è tizio che non è più nel Milan è Paolo Maldini poi come abbiamo detto e come ripetiamo le cose potrebbero anche andare meglio ok perché nel preciso momento in cui questa cosa succede non si sa è ovvio non si sa cosa porta il futuro potrebbe portare meglio potrebbe portare peggio capisco e capiamo e per me sono sacrosanti i sentimenti dei tifosi di preoccupazione di smarrimento perché è sempre stato garanzia di ambizione Maldini non di successo perché le stagioni le puoi sbagliare ma di ambizione è difficile comunque insomma in questo momento raccontare quello che sta accadendo oltretutto credo che le campane che andremo a sentire e che con ogni probabilità sentiremo nei prossimi giorni ci chiariranno meglio la eh la faccenda e penso che possano essere abbastanza eh possa essere abbastanza scontato che che suoneranno sia dalla parte della proprietà che della dirigenza che andranno via che arriveranno esatto è l'importante che poi verranno definiti dettagli di tutta questa vicenda perché insomma è giusto è giusto capire è giusto farsi un'idea giusta lucida e trasparente di tutta questa situazione che è successa però insomma eh credo che comunque è una cosa che che un minimo eh sia da capire ecco sia da capire poi vedremo cosa ci dirà la la proprietà perché penso che insomma mandare via due dirigenti implichi il fatto che si si vada a chiarire un po' le motivazioni che vertono anche su su tutto quello che sono stati gli ultimi anni sulle richieste di Paolo Maldini e su quello che poi non è eh in parte è stato dato l'anno scorso e in parte quest'anno non voleva che gli venisse lasciato ecco tutto qua ehm grazie anche a Mario Montraggio che ci ha donato cinque euro grazie mille Marco per la tua la tua donazione grazie davvero eh ridò un po' di spazio al il doc White che è venuto in giro a salutarci ciao doc ben ritrovato allora eh leggo qualche messaggino ehm Misaele scrive almeno che ragazze anche Maldini e Massai li abbiamo un po' sopravvalutati non so a cosa pensare ehm oddio qui si parla di manifestare davanti la sede ragazzi stiamo andando un po' ognuno dice quello che vuoi è una vergogna eh insomma vabbè io se metto in onda i messaggi dei tifosi stasera credo che siano abbastanza senso unico li metto in onda per dare un'idea ma non non c'è guarda facciamo una cosa se qualcuno invece pensa che sia stata una decisione corretta ce lo scriva in chat e io lo metto in onda eh Carmelo scrive non ho mai sentito la voce di Forlani parlava solo con Paolo Antonio decisamente giustamente a Cardinale ha fatti i bravi non l'avevo finito di leggere eh è tutto così surreale scrive Antonio lasciate San Siro vuoto hanno semplicemente idee diverse sul da farsi anche questo è giusto hanno semplicemente due opinioni diverse che hanno provato a far andare d'accordo per un anno l'anno scorso e non si va avanti ma che i rapporti non fossero mai sbucciati al 100% ce l'ha detto anche lo stesso Paolo Maldini un anno fa quando ricordo aveva dato a Adagan Gazzidis eh cosa che gli aveva detto eh che si era permesso di fare qualcosa se non ricordo esattamente le parole di Paolo su su Gazzidis sull'amministratore all'amministratore delegato mi è mancato di rispetto se non ricordo male aveva detto ciò un'intervista pesante che probabilmente senza lo scudetto gli sarebbe anche costato l'addio l'anno scorso sì tra l'altro ma infatti c'è che questa cosa doveva accadere come ho detto prima era scritto e probabilmente è pure è pure giusto nella testa di tutti i partecipanti e nell'idea di tutti i partecipanti ok è giusto che le due strade si separino perché ci sono idee troppo diverse ok non sto dicendo che un'idea è giusta un'idea sbagliata perché non c'è nel senso non abbiamo una sfera di cristallo per dire che le cose andranno bene andranno male ok io ho solo detto che sono preoccupato e capisco il sentimento di smarrimento di tanti tifosi di preoccupazione perché maldini è sempre stato garanzia di ambizione garanzia di milan non so che altra parola utilizzare se non milan poi le cose potrebbero andare ancora meglio col passare del tempo con la crescita simone ad esempio scrive io penso sia corretto ha fatto un mercato disastroso se non fosse maldini sarebbe già licenziato però anche pioglie ha chiesto rinforze ma lui rimane non capisco scrive andrea io non posso però credere scrive manuel che se nata oggi questa decisione infatti dalla dall'incontro che è andato particolarmente male penso che la decisione sia maturata già da un po di tempo se sono stati stabiliti gli obiettivi inizio anno e questi non sono stati raggiunti gli americani sono così può essere pure che a maldini se lo aspettasse già iorex scrive invece che non c'è milan senza maldini fate i bravi salutiamo magnano salutiamo leao ragazzi calma comunque il milan non finisce domani mi rendo conto che la figura di maldini sia comunque stata una una figura importante quindi è ovvio che scuoto un po tutti anche perché si era trovato questa questo equilibrio no però evidentemente non ci si è trovati però ribadisco i comunicati ufficiali ancora non sono arrivati quindi è chiaro che sì lo so è un passo diciamo formale ecco no lo so per rivangare no certo è ovvio che quando leggi anche fabrizio romano capisci che evidentemente è difficile che cambi tutto ecco forse nessuno se lo aspettava cioè si era intuito che non ci fossero rapporti di liaci però così forse non se lo aspettava nessuno i messaggi stanno un po differenziando tra maldini massara pioli i giocatori perché tutto questo c'è da c'è da ricostruire una stagione e lo si deve fare al 5 di giugno ed è giusto che sia stato così perché fino a ieri abbiamo giocato io ho molta paura di dire questa frase so che non devo dirla e non dovrei dirla ma la dirò perché sono un po autolesionista e mi piace soffrire c'è tempo no tempo no però Henry fino a ieri abbiamo giocato no 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 fermo 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 no sto dicendo è il 5 di giugno alle 6 le decisioni arrivano domani arrivano il 6 ok c'è tempo c'è un'estate intera nel caso senza maldini massara e ce ne faremo una ragione per fare tutto ok per provare a sistemare per provare a dimostrare che maldini non maldini il progetto il chiaro le direzioni sono chiare la voglia c'è la testa pure e che quindi si fanno le cose come si devono ma sicuramente è meglio ora che che tra un mese no tra un mese che fare quello che è successo l'anno scorso ovvero tutto il mese di giugno aspettare il 30 in cui si è perso tempo sicuramente se deve essere è meglio immediatamente devo ringraziare Marco che si è abbonato al pari di oddio che Nick ha l'ardismo cose di un anno e passa a fare ringrazio anche Mario per i 2 euro grazie mille Mario grazie mille a Michele che ci ha dato 2 euro riempite lo stadio l'anno prossimo non so se sarà o ironico non lo so forse invece no Mirko ci dona 2 euro questa proprietà solo l'obiettivo economico Mirko grazie per i 2 euro io ritorno a mostrare anche qualche altro messaggio se ne andranno tutti qui siamo al dramma ragazzi però calma io capisco che siamo davanti a una serata molto di passaggio in una di quelle serate che tra 5 anni tirai ah ti ricordi quella sera ti ricordi quella sera in quei momenti come adesso diciamo ti ricordi quella sera di Madrid Zone io capisco però calma calma non è che adesso si esplode tutto prendiamoci un attimo del tempo come se lo sono prenderanno se lo prenderanno loro per decidere prendiamocelo anche noi per un attimo respirare se no altrimenti rischiamo di fare un poi c'è il punto è sempre quello cioè Moncada diventa il DS ti prende l'attaccante a 6 milioni che ti fa 35 gol siamo tutti qua belli felici perché Moncada è diventato DS perché ha scovato un nuovo giocatore da 150 milioni è normale e mi auguro che possa accadere nel caso in cui Moncada dovesse diventare il DS o comunque se dovesse andare su questa opzione io semplicemente ribadisco e capisco la preoccupazione perché lo sono anche io in questo momento del fatto che si è sempre anche proprio dichiarato come dire chiarante di quella cosa lì e soprattutto ha sempre ribadito mille volte la volontà e la necessità di fare questi step se le vedute sono così differenti la cosa preoccupa ci sta come preoccupa tanti perché Paolo Maldini è il Milan poi che le cose possono andare meglio nel futuro ce l'auguriamo tutti e non è assolutissimamente escluso che possa essere così però farò un discorso molto cinico molto molto cinico siccome da un po' di mese a questa parte da un bel po' di mese a questa parte Paolo Maldini è la proprietà che sia Elliot o Cardinale non è che si amassero alla follia e che le idee dell'uno non corrispondevano con le idee dell'altro e in parte ci si sopportava più che si sopportava ti dirò molto cinicamente visto che solo soltanto una parte può decidere di far sì che il matrimonio finisca perché o l'altra se ne va o può decidere solo chi è il proprietario da un lato è un bene chiaro non tanto perché va via Paolo Maldini ma perché finisce diciamo così un periodo travagliato che possa portare a un'unità di vedute totali che possa portare a un'idea ben precisa della proprietà che si ritroverà a navigare col vento in faccia che magari non è tanto più semplice rifarlo con o senza Paolo Maldini lo vedremo ma che quantomeno ora diciamo così non che decide lei perché decide sempre lei ma che ha la possibilità di fare quello che è esattamente la sua idea giusto o sbagliato lo dice il campo però che si sia preso una decisione in parte mi dà un po' di sollievo onestamente perché se no andare avanti ancora così non aveva senso con Paolo che alla prima volta che li girava faceva l'intervista che non andava bene poi non riusciva a comprare il giocatore quindi magari ripiegava su un giocatore che voleva lui non indicato dagli scout poi la proprietà gli rimproverava il fatto di aver fatto questo e non ascoltato gli scout eccetera eccetera e si andava a alimentare un mostro che poi non portava da nessuna parte ecco tutto qua no quello sicuramente quello è in dubbio cioè il fatto che con questa notizia le cose si snelliscano e che ci sia più unità di intenti ci mancherebbe altro che questa cosa non porti almeno a quella roba lì ecco ripeto starà starà loro sarà insomma a chi prenderà il posto di Maldini dimostrare che effettivamente la sua figura era più un problema che altro comunque era un qualcosa di superfluo un qualcosa che poteva tranquillamente essere evitato per fare anche meglio in più rapidità portando anche qualcosa in più ecco però sono tutte cose da dimostrare ecco queste cose andranno dimostrate in attesa di capire cosa accadrà no ma infatti ma l'avevamo detto anche nei giorni scorsi cioè continuare così era difficile era molto difficile era molto molto era molto difficile ma in qualsiasi azienda credo che sia si può fare eh si può fare come si è stato questo che sia qualcos'altro cioè in qualsiasi azienda credo che sia molto molto difficile essere così Paolo ci dona due ore e scrive ma cosa vi aspettavate dopo di che Telare a 35 è il quinto posto? cioè pagherebbe anche i risultati sportivi? solo lui no infatti lasciamo un attimo la parte Pioli ah ecco perché non gli allena Mazzini gli altri 20 che c'erano già eh ma infatti io io penso che possa essere una valutazione a 360 gradi ecco quest'anno se siamo arrivati i quinti e se abbiamo fatto una stagione in serie A non di altissimo livello penso che tutti abbiamo portato il loro sassolino sulla bilancia e l'hanno fatta pendere dalla parte di un quinto barra quarto posto poi con il la Juve penalizzata quindi credo che tutti debbano andare davanti a una sorta di giudizio della proprietà mi sembra anche corretto tutti però ecco tutto qua Stefano ci dona due euro grazie Stefano grazie Stefano invece Cagliari che si è abbonato ringrazio anche Edoardo che ci dona 5 dollari e scrive il Milan senza Maldini è un po' meno Milan non mi interessa chi chi c'è in campo ah o chi Moncada scopre in Francia Max Quaini ci dona 6 euro siamo a Surreale vi offro il caffè per lo sbatti che ci state mettendo raga e io che mi aspettavo una settimana noiosa invece caro Max qui ogni anno manteniamo la media chissà cosa succede l'anno prossimo ormai sono due stagioni che il giorno dopo due giorni dopo tre giorni dopo che finisce la stagione olè si ribalta tutto quindi chissà cosa succede l'anno prossimo scherzi a parte io volevo dire ringraziando anche Daniele per i 5 euro adesso leggiamo il messaggio che noi non siamo in diretta solo quando si sfascia il Milan o Maldini va via dal Milan o Ibra si ritira o cose del genere siamo in diretta tutti i giorni ragazzi anche dopo Milan cremonese 1 a 1 al martedì per dire quindi non seguiteci solo quando il Milan si sfascia o quando va via Maldini o quando il Milan magari rinasce chi lo sa seguiteci tutti i giorni iscrivetevi al canale e attivate la campanella Daniele scrive ma la magia dello scorso anno da dove veniva per me non esiste sostenere una roba del genere tenetevelo voi l'attaccante presa a 6 e venduta a 150 questo per far capire un po' il tono dei messaggi perché da una parte quello di Paolo di poco fa parlava appunto di però cosa vi aspettate dopo una stagione sportiva del genere per lui a questo punto penso ci stia il fatto che venga valutato e venga valutato in maniera errata il lavoro e quindi possa saltare mi sa che Ivra lo sapesse già beh in effetti lo sguardo di ieri anche di Paolo anche un po' disincantato non lo so bu vabbè questo sono veramente questo si è chiacchera questa è veramente chiacchera ma guarda l'unico ma no Luca ma no come Luca il Milan non resta sempre io lo so che Paolo per molti io lo so per Paolo per molti di voi è il Milan lo so non è che ce lo nascondiamo per molti tifosi Paolo Maldini è il Milan Maldini e Milan è un binomio non si stacca se si stacca si stacca il Milan lo so però ragazzi io capisco capisco lo capisco però il Milan poi va avanti torna sempre agosto ritorna ritorna al campionato si ricomincia a giocare ah già vai su siamo io lo so mi capisco per Maldini lo so ma siamo tifosi del Milan ragazzi poi io capisco stasera qualcuno di voi soprattutto guarda prendo un messaggio di Gianni che scrive Maldini era il garante io penso che sia molto complicato in questo momento anche proprio per questo termine che è sempre stato associato a Paolo Maldini perché di fatto sembra che senza di lui non ci sia una garanzia forse questo termine apparteneva più all'inizio cioè penso che il Milan adesso possa camminare con le sue gambe nonostante sia difficile però credo che dietro quel termine ci sia tanta no tanto di questa preoccupazione perché ce lo ritorniamo tutti quel termine no l'ha detto lui tante volte poi è ovvio che non è facile non è facile anche perché è stata un po' una doccia fredda perché onestamente per quanto ripeto si era intuito però così magari nessuno se lo poteva aspettare ringrazio sauro che si è abbonato grazie mille sauro dell'abbonamento così come giovanni che ci dona due ore e scrive sono scioccato non meritiamo tutto questo samuel invece ci dona 99 centesimi grazie scriviti un messaggio samuel mi alleva anche il messaggio emanuele ci dona cinque euro adesso chi ne sarà di kamadalof tussi carnautovic compagnia cantante sarà che deciderà chi arriverà ragazzi io non non ve lo posso dire in questo momento decide chi chi sarà il prossimo a prendere le decisioni se il prossimo deciderà che kamadalof tussi carnautovic eccetera saranno i profili giusti e si continuerà altrimenti no eh cosa siamo i primi adesso di sperarci stasera e secondo me ci può anche stare per per Maldini siamo i primi che se se Moncada se ne esce con Tileman se Milinkovic invece di kamadalof to chic cambiamo subito idea perché comunque il mercato da un certo punto di vista in questo senso ti può dare una mano eh ti può dare una mano la campagna di calciomercato se fatta bene ti può dare una mano a non nascondere perché non lo nascondi Maldini e il licenziamento di Maldini però ti può dare una mano a come dire a far capire che si può andare anche oltre ecco cosa che tutti ci auguriamo io ribadisco il capire perché un po' lo sono anch'io personalmente ma ribadisco il capire la preoccupazione che c'è poi che si possa fare ancora meglio che si snellisca tutto quanto è tutto quello che ci auguriamo tutti quanti Alex Inco scrive infatti ci dona due euro grazie mille Alex Inco scrive non facciamoci prendere dall'isteria però dai sicuramente ragazzi ma è comprensibile siamo umani ci sono qualcuno di noi che è tifoso del Milan e molto molto legato a Paolo Maldini che stasera ha un ha un crollo ha un moto di rabbia ha un moto di distaccamento ma è capibile non mi sto dicendo assolutamente no detto questo domani no perché il day after ci sarà poi il modo di ripartire capiremo come 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 si andrà avanti un po' come è stato anni fa insomma sembrava che si stesse distruggendo via tutto con penalizzazioni UEFA parte in dirigenza che se ne va allenatore che non sapeva cosa stava facendo è una squadra che non era questa e poi si ripartirà in un modo o nell'altro si ripartirà sempre io mi ricordo io mi ricordo i primi giorni che ero in radio ero arrivato in radio da poco nel lontano 2019 se ne era appena andato Giampaolo ed era arrivato Pioli cioè era stato appena esonerato Giampaolo ed era arrivato Pioli e credo fosse uno dei momenti io ero appena arrivato in cui si pensava che fossimo finiti tipo nella serie di mediatica cioè da Giampaolo a Pioli nulla cosmico e poi le cose sono andate diversamente quindi rimaniamo comunque fiduciosi capendo comunque quello che sta succedendo io rimango semplicemente in attesa è inutile prima capire a come si riparte e poi decidere la nostra estate al netto del fatto che sono perfettamente conscio che molti tifosi del Milan come scrive Cristiano invece no te lo leggo caro Cristiano caspita a 51 anni mi tocca smettere di seguire il Milan io capisco che ci siano dei tifosi che la pensino così ci sta assolutamente non stiamo parlando del primo che passa stiamo comunque parlando di Paolo Maldini che è un'istituzione che è il Milan stesso in pratica capisco anche molti dei nostri tifosi tutto qua domani ci dovrebbero essere ricomunicati quindi in un modo e l'altro quanto meno quello che ci auguravamo nella diretta precedente cioè che tutto si andasse a compimento in poche ore ecco in questo siamo stati esauditi diciamo domani in un modo e l'altro si chiude e quindi avremo la possibilità di riaprire nel caso subito perché domenica si è finito di giocare a mezzanotte in pratica con l'addio di Ivra oggi stamattina c'è stato praticamente la decisione chissà cosa succede domani sono pronto a tutto siamo venuti a conoscenza tutti e domani ci saranno i comunicati ufficiali quindi è stato veramente un lampo tutto questo devo ringraziare anche Daniele no ha disdetto tutto Daniele ci dona 5 euro ma ha disdetto via tutto da zone sky canale youtube del Milan basta così per un cd capo abbiamo teo isma sandro rafa facciamo quello che vogliono senza quello che vogliono senza di me cioè che gli errori di questa stagione non possono essere messi sulla bilancia rispetto ai meriti delle altre ma io ragazzi penso che posso essere ve lo faccio proprio cinico il discorso non è una questione di campo per me oltre a quello oltre agli errori che possono essere implicati oltre a per me c'è semplicemente una differenza di vedute che si è cercato di conciliare per anni e adesso probabilmente si è deciso di non conciliare più tutto qua si dispiace perché il Milan va oltre secondo me deve andare oltre e va oltre queste cose va oltre anche tutto ciò che è spesso tangibile cioè ci sono cose del Milan che non puoi spiegare con qualcosa di razionale ecco e te l'ha fatto vedere anche Ibra ieri sera onestamente è quella la cosa che mi dispiace che il Milan su certi aspetti va oltre tutto ciò che è logico perché è il Milan nel calcio e nel mondo del calcio quindi che si debba finire a essere così cinici così legati insomma a queste cose qua un pochino mi dispiace ecco poi non dico questo è giusto sbagliato dico un po' leggo qualche altro messaggio allora Alberto scrive Maldini vuole appuntare in altro Redbird no Teo andrà e Leo anche sarò felice per loro scrive Fabio Frankie scrive andava fatto diversamente i migliori se ne vorranno andare ho questa sensazione brutta Fabrizio scrive sono milanista per Gianni Rivero ho sofferto quando Berlusconi lo mondo via poi però ho goduto grazie a Berlusconi non tutti i mali vengono per nuocere non si tocca la nostra bandiera scrive Margis danni scrive la società non vuole spendere Maldini si altro che differenze di vedute però insomma questo è in realtà il milan va all no no già voi ogni tanto mi fate fare ma leggi di prima nel mentre che faccio andare scorrono molto velocemente non è semplicissimo stargli dietro voglio le prove sono sono tutte notizie fake domani credo ancora prima di non mi sembra vero scrive Andrea perché in realtà in effetti è successo in 24 ore ma ora nel post a chi si pensa lo ripetiamo con ogni probabilità potrebbe esserci la soluzione interna cioè Geoffrey Moncada quindi Moncada comunque prenderà più poteri poi dovrà arrivare per forza un DS perché il patentino serve e quindi un direttore sportivo probabilmente arriverà però Geoffrey Moncada e la sua parte scout di scouting prenderanno più più potere diciamo così avranno più potere decisionale torniamo a leggere qualche messaggio allora Giacomo scrive incredibile Nicolò scrive ragazzi Danos facelo capisco che dovete tenere sul morale ma magari lo scatafascio non migliorerà la situazione il modello dinese a voi piace scrive Ernesto no ovviamente no certo ci vuole il coraggio a rompere con Maldini ecco questo sì cosa che forse non si è avuto fino in fondo in passato però la parte di decisionale di Jerry Cardinale è stata pesante ha deciso di rompere con Maldini ben sapendo quello che rappresenta per tantissimi tifosi stadio vuoto nessun abbonamento che vedute a voi per voi la società business e basta chiede Marco lo spiegheranno loro ragazzi una decisione del genere merita di essere spiegata se si prendono una decisione del genere lecita perché si è la proprietà è giusto spiegare i propri stakeholder come si suol dire la decisione presa mi aspetta che vado a recuperare allora allora il Milan ieri sera è quello interrato nel cuore di Ibra non è il Milan di Cardinale cacciare Maldini ma sarà giù è una scelta scelerata il Milan ha un valore proprio perché non è mai stato un'azienda ci chiedono se in giunto l'ho firmato con la Juve cioè nel senso se possiamo fare una sorta di mega sorpassone finale ma la tempora currum che la curva si faccia sentire in parte la curva ieri ha chiesto alla proprietà anzi alla società in realtà alla società il cambio di passo intanto la Roma prende Enzola così Maldini lo stesso che ci ha regalato di Chetela scrive invece Pierpaolo aspetta ma la tempora l'abbiamo già letto ciao ciao top players mobilitazione senza Maldini scrive Daniel nessuno ha uno come Maldini dai che scandalo adesso pensiamo come minimo allo scudetto pretendiamo come minimo lo scudetto scusate è follia pura e lo spero ma fortissimi dubbi la rinascita della Fenice Maldini e Milan ci scrive mi insomma è inutile che il sentimento dei tifosi questa sera è abbastanza schierato è inutile che ci nascondiamo però da domani vedremo come andrà quali decisioni verranno prese anche perché come abbiamo detto Henry ha detto magari un po' scherzando che il tempo c'è ma in realtà nel calcio il tempo al 6 di gennaio è già un po' in corso nel 30 dell'anno scorso un mese in più dopo l'anno scorso è tutto grasso che cola ora ci manca solo da non fare un mese di trattativa per un giocatore e abbiamo guadagnato due mesi rispetto all'anno scorso cioè sono giorni comunque se vai a contarli quindi io comunque partirei ottimista su questa cosa qua cioè adesso tu è il 6 di giugno tu volendo per la fine di luglio potresti aver fatto l'85 l'80 per cento del grosso che devi fare ok dal punto di vista del mercato quindi il tempo per iniziare ad acquisire magari quel po' di credibilità che ti devi acquisire perché perdendo Maldini indubbiamente purtroppo per fortuna un po' di credibilità la perdi hai il tempo per costruirtela hai il tempo per far vedere oh guardate che senza dover stare a discutere bla 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 tutti i giorni eccetera abbiamo preso Tizio Caio Sempronio in tot tempo cioè il tempo adesso ne hai un po' di più rispetto all'anno scorso vi leggo quello che scrive sul proprio sito Gianluca Di Marzio clamoroso Maldini e Massara lasciano il Milan esonerati il direttore dell'area tecnica ed ex leggenda del club e il direttore sportivo rossonero sono stati oggi esonerati dalla proprietà del Milan nell'incontro con Jerry Cardinale si era già parlato di tensione tra le parti dopo l'incontro ma ora la decisione è stata presa cambia quindi tutto nella direzione tecnica e sportiva si attende la comunicazione ufficiale per ora i rossoneri adotteranno la soluzione interna che potrebbe comunque diventare definitiva più forza e autonomia Furlani e Moncadà in attesa dell'ufficialità la scelta e la proprietà in particolare di Jerry Cardinale è già stata comunicata a diretti interessati che non rientrano nei piani non ci sono possibilità di ricucire nell'incontro di oggi non ci sono stati dialoghi o confronti ma una comunicazione veloce rapida e netta non si è parlato di prospettive perché di fatto la decisione era già stata presa e Maldini e Massara ne hanno preso atto la proprietà rossa nera da tempo voleva improntare nel Milan un modello di lavoro differente e ora la decisione è arrivata ne prendiamo atto anche noi come ne hanno preso atto loro so cosa dirti faccio fatica allora devo essere onesto faccio fatica a rimanere ho fatto fatica in questi 50 minuti a rimanere il più lucido possibile il più neutro possibile il più obiettivo possibile perché onestamente è difficile poi naturalmente si spera sempre di essere smentiti di sbagliare però non va via ripeto non viene licenziato Tizio X dal Milan non viene licenziato con tutto il bene Cristian Zaccardo dal Milan ok non viene licenziato Antonini dal Milan viene licenziato viene licenziato Paolo Maldini e non è semplice per niente sì il collega Daniele Long ha twittato che la squadra avrebbe preso non benissimo anzi avrebbe preso male la cosa ma quando qualche giorno fa una decina di giorni fa erano uscite le prime abisaglie e poi si era corsi a mettere una pezza per finire il campionato in maniera decente Teo Hernandez e Rafa e Leao nello stesso pomeriggio avevano messo foto di loro con Paolo Maldini quindi io penso che sia abbastanza indicativo anche questo però vabbè come dicono da casa in effetti se è appunto un esonero verranno anche comunicati i motivi magari in maniera diretta in maniera trasversale ma almeno sapremo esattamente cosa non ha funzionato il perché di questa decisione Angelo ci chiede ma che fine faranno le trattative già avviate e Angelo grazie per i due euro ma la risposta la darà chi arriverà al posto di Paolo Maldini e quindi deciderà deciderà lui grazie anche a Maurizio grazie a una notizia di Repubblica in questo momento Paolo Maldini via dal Milan la rivoluzione americana parte dall'ex stella rossonera squadra in rivolta citiamo Repubblica questo è Repubblica i giocatori simbolo Dalleao Magnana Teo non l'hanno presa bene lo so proveremo a trovare conferme riportiamo quello che ha detto Repubblica io rimango quello che ho visto coi miei occhi qualche giorno fa cioè alle prime avvisaglie i giocatori avevano palesemente fatto intendere come la pensavano però da qui a dire che tutta la squadra è rivolta tanto come abbiamo notato le cose in 24 ore si vengono a sapere nel caso quindi aspettiamo e vediamo se questa sarà una ricostruzione dei fatti vera oppure no tutto qua magari sì magari io anche dopo 53 minuti dato che siete in 2200 vi ricordo di lasciare un mi piace dato che credo che siamo quasi in chiusura di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di lasciarci un commento per chi lo guarda indifferito dirci la vostra su cosa ne pensate su questa faccenda attivate la campanella per tutte le notifiche di tutte le nostre dirette video contenuti pillole e quant'altro troppo pochissimo tra l'altro tutte le mattine calcio mercato quindi mi raccomando con obbligo di riscatto e vi ricordo che siamo in diretta tutti i giorni anche dopo i martedì e i mercoledì dopo Milan Cremonese dopo Spezia Milano sì non è che raccontiamo solamente queste serate un po' complesse siamo sempre live voi pensate voi ogni tanto vi connettete quando ci sono queste cose noi invece siamo in diretta sempre quindi venite a darci una mano venite a supportarci forza Graziano riporta anche Sport Italia ufficiale esonero per divergenze societarie è così ma non è che non si sono trovati perché uno ha chiesto 50 e l'altro gli ha dato 40 milioni di budget ragazzi non è questo è che si vede la cosa in maniera diversa e probabilmente nessuno dei due andava più giù il fatto anzi in questo caso più la proprietà dei comportamenti dell'altro quindi è finita così è finita così cari ragazzi siamo arrivati in chiusura abbiamo fatto anche questa oretta insieme ai nostri ascoltatori grazie per tutti quelli che sono passati anche a quest'ora noi ci ritroviamo direttamente domani mattina alle 10 pensando di poter avere qualche notizia in più ancora anche perché in questo momento ora dopo ora si rincorano le notizie quindi proviamo a tenervi aggiornati ora dopo ora torniamo direttamente domani mattina alle 10 poi alle 11 poi alle 13 con lancia alle 16 il talk insomma saremo live tutto il giorno anche domani Henry e Bea grazie buonanotte ciao a tutti a domani ciao buonanotte buonanotte anche da parte mia ci ritroviamo domani con Radio Rossonera mettete like in uscita scrivetevi abbonatevi fate quello che insomma volete di questa trasmissione di questa diretta ma supportateci anche perché in questo momento direttore nuovi nomi nuovi nomi di mercato e anche perché c'è il rischio che i vecchi quelli che erano impensati se ne vadano e quindi c'è da rifare tutto da capo ma insomma siamo qui per farlo ciao buonanotte